Luca Polverino, asset manager NPL presso una piattaforma professionale di Sistemi S.P.A. Il mio contributo oggi è stato frutto delle esperienze lavorative sia pregresse nell'ambito della discussione dei tributi e del recupero giudiziale presso principali banche finanziarie italiane e oggi a favore dei fondi che investono in NPL. Il tema di fondo è stata la verifica in attestazione anzitutto dell'evoluzione positiva della normativa di riferimento che ha favorito la possibilità di processare in maniera efficace e efficiente una serie notevole di crediti deteriorati, è stato fornito altresì qualche spunto per un successivo miglioramento che ha fatto consentire un accesso ai dati che la legge oggi consente dopo la posizione della formula esecutiva in una fase preliminare. L'evento è stato molto seguito, il pubblico era particolarmente attento sia al contenuto di ciò che veniva rappresentato sia alla forma con la quale veniva manifestata dai vari rappresentanti di categoria, per cui ritengo che questa è stata un'esperienza molto positiva.